Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Ma anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati e ci eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo, se ero nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo lascia solo, piange in diretta con Sandra Miva. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, ora far morto il telefono giallo. Come ti chiami, dove ti chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti milioni, tanti gettoni. Pronto, 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 come Rusconi o Polarani. E giù in Aspromonte c'ho dei parenti, li ho rivisti, belli, contenti, nello speciale rapimento. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo, che è un alfabeto, ma ha scritto un romanzo, è sempre lì da Maurizio Costanzo. E la fortuna di nonna Piera, che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso vent'anni in un giorno in pretura. Mio zio è un travestito di nome Vanda, ha fatto i soldi, ha comprato la panda da quando è andato a Samarcanda. Come ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, 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 con Berlusconi o Polarani. L'angelino che ha l'occhio strano, l'han visto tutti in primo piano, in uno speciale sul San Patrignano. Mentre alla fine c'è il nono Renato, che c'ha l'Aiz da quando è nato, ha avuto un trionfo da Mino Damato. Gli ho presentato la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Il bel paese sorridente, dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, ci stai diventando tutti scemi. Pronto, 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 tutti i cretini, tutti i coglioni. Pronto, 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 come Berlusconi o Polarani.